Rito religioso e guerriero sul mare della provincia nissena. La gioventù dellittorio della provincia di Caltanisetta consegna la bandiera di combattimento alla regia torpediniera Castore. Dopo la benedizione impartita dal vescovo alla presenza del prefetto, delle autorità navali e delle maggiori gerarchie della provincia, la bandiera della patria è ascesa sul pennone della bella e possente unità tra il commosso entusiasmo dei presenti. Grazie